delle qualità che ci faranno sicuramente venire la voglia di prendere poi fa bene alle ossa poi il nostro micio è anche un sostegno emotivo che ha la possibilità di fiutare possibili fughe di gas i fiori fiosi asmr ciao a tutti amici fiosini come state? spero tutto 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 bene bene come potete vedere qua ho le foto del mio micio guardate com'è carino allora voi vi chiederete perchè la foto del micio perchè oggi parleremo di gatti esatto parleremo di gatti nel senso che i benefici tutto quello che riguarda nell'avere un nostro amico a quattro zampe in casa con noi e vedremo delle qualità che ci faranno sicuramente venire la voglia di prendere un micetto ecco e io ve li leggerò in modo da essere più chiara possibile e poi li commenteremo insieme allora come prima cosa riduce lo stress il gesto di accarezzare il gatto e le coccole che fai al tuo pet influiscono positivamente sul tuo organismo come stimolando semplicemente la produzione di ossiducina il famoso ormone del benessere non solo le vibrazioni prodotte dalle fusa agiscono come dei white noise che garantiscono calma serenità placando ansia e stress quindi le carezze prolungate servono a rilassarvi ulteriormente poi diminuisce il rischio di patologie cardiache dovete sapere che quando voi dormite il vostro micio si mette vicino a voi la regola il suo respiro con il vostro e se vedete dopo un po' di tempo il suo respiro si adegua al vostro secondo una ricerca dell'istituto dell'università del Minnesota chi vive con un gatto al 30-40% di possibilità in più di morire a causa di un infarto rispetto a chi condivide la propria esistenza con un micio ciò è dovuto al fatto che le fusa producono un effetto vasodilatatore migliorando la circolazione sanguigna poi abbassa la pressione sanguigna numerosi studi hanno analizzato l'influenza del gatto sull'umore dei propri pradoni trascorrere del tempo con un micio permette di allontanare lo stress e garantire uno stato profondo di pace che ha conseguenze anche fisiche consente infatti di abbassare la pressione del sangue donando uno stato di pace poi aiuta a dormire meglio se il tuo gatto dorme sul letto con te riposerai molto meglio uno studio infatti dice ha dimostrato che il 41% dei proprietari di micio hanno un sonno più lungo e profondo quando sono in compagnia del proprio padrone del proprio micio il segreto sarebbe proprio nelle fusa che possiedono un potere rilassante sulla mente come quello che ho detto prima poi fa bene alle ossa vediamo perché uno studio della fauna Comunication Research Istituto North Carolina realizzato su alcuni gatti ha svelato che le fusa possiedono frequenze sonore che vanno dai 25 fino ai 150 Hz proprio come gli ultrasuoni sfruttati in campo medico con lo scopo di aumentare la densità ossea e curare disturbi muscolari e ossei beh direi fantastico migliora il sistema immunitario un gatto in casa permette di migliorare il sistema immunitario allora si è stato rivolato che un gatto in casa aiuta a diminuire del 50% il rischio di infezioni respiratorie e allergia agli acari pelo di animali gramminacee e polvere la saliva del miccio infatti contiene delle proteine che rilasciate nell'aria aumentano le difese immunitarie bello poi il nostro miccio è anche un sostegno emotivo il gatto rappresenta un sostegno per affrontare i momenti difficili chi possiede un miccio lo sa bene questi animali sanno godersi il momento trasmettono calma e sono degli ottimi osservatori che non si fanno turbare da nulla ha la capacità di ispirare e rilassare il proprio padrone aiutandolo a vedere ogni cosa con una prospettiva differente combatte la solitudine se vivi con un gatto non ti sentirai mai solo si tratta infatti della terapia migliore contro la solitudine il tuo pet sarà sempre un amico fidato un confidente e un compagno che ti risolliverà il morale anche nei momenti più brutti poi migliora la tua qualità di vita uno studio australiano ha dimostrato che i proprietari di gatti hanno una salute migliore mentale rispetto a chi non ha si sentono infatti più fiduciosi e meno e meno nervosi fantastico poi abbassa il livello di stress numerose ricerche hanno svelato che chi vide con un gatto sperimenta con minore frequenza le emozioni negative i gatti infatti aiutano a migliorare l'umore abbassando il livello di stress e regalano un'enorme tranquillità poi un altro dettaglio ti rende più socievole infatti possiede una sensibilità sociale maggiore e tende a fidarsi molto di più delle persone stare con un miccio rende molto più socievoli e tendenti a creare legami con gli altri gli amanti dei gatti secondo gli esperti sarebbero particolarmente estroversi amichevoli e aperti all'idea di fare nuove esperienze un ultimo passaggio che non pensavo fosse una cosa così ovvia è che ha la possibilità di fiutare possibili fughe di gas i felini hanno un olfatto particolarmente sviluppato e sono in grado di fiutare pericoli nascosti come le fughe di gas infatti riescono a fiutare l'aria contaminata dal momento dal monossido di carbonio scongiudando possibili incidenti beh insomma abbiamo visto quante qualità ci sono nel possedere un micio infatti devo dire che anch'io avendo un gatto in casa veramente ti può migliorare la vita ecco insomma quindi spero che io vi abbia dato delle buone informazioni e chi vi sia appunto venuta voglia di prendervi anche voi un amico a quattro zampe e infine io vi voglio ricordare che se vi piacciono questi video scrivetemelo pure nei commenti che ne farò degli altri e in questo adesso io vi saluto spero che questo video vi sia piaciuto e vi auguro una buona giornata al mio prossimo video ciao ciao